Il mancato svolgimento della fiera di San Giacomo nel corso delle festività patronali in onore dell'omonimo santo ha indotto gli esponenti dell'associazione venditori ambulanti del Calatino a fornire le loro precisazioni sulle motivazioni per le quali il bando emanato a giugno fosse andato a deserto. Altro motivo del contendere l'indicazione del sito di piazza Falcone Borsellino prospettata dall'amministrazione comunale. Ma è andato a deserto? Non lo so il perché. Noi non ci siamo presentati perché secondo noi non c'è requisiti per poterla fare. E come tempistica e come logicamente il sito quello che hanno scelto loro, condiviso da nessuno, tutto qua, non altro. Il rappresentante degli ambulanti senza entrare in polemica a margine dell'intervento dell'assessore dell'attività produttiva per Giorgio Cappello ha fornito i suoi chiarimenti sulle circostanze legate al fatto che la fiera avrebbe perso di appetibilità nei confronti degli operatori. Da qui una seconda precisazione degli ambulanti. Ma questo mi sa un po' anomala sta cosa perché non funziona così, perché vi posso dire che noi facciamo fiere. Sino alla settimana scorsa ci trovavamo alla fiera di Spadafora e qualcuno aveva messo in giro che la fiera si rifaceva qui a Via Principessa Maria dove noi siamo riusciti a riportarla grazie all'assessore Caristia e l'amico Carnibella che hanno lottato con noi. Siamo riusciti a riportarla qua ai tempi e praticamente qualcuno ha messo questa voce in giro lì alla fiera di Spadafora e sono arrivate chiamate da Mezzitalia, da Napoli, da Baresi, quello dei Piatti, quello dei Lampadari perché se la fiera si riportava qui erano tutti i Provenzi e dopo è stata fuori di smontare e venire a montare qui a Caltagirone. Alla mia comunicazione che il sito non era questo ma bensì era un altro, scelto dall'amministrazione, solo dall'amministrazione o condivisa con nessuno, non sono venuti. Grazie.